Eccoci con Alberto Colaiacomo. Fertilizzazione, perché dobbiamo fertilizzare i giovani? No, no, sono i giovani che devono fertilizzare noi. I giovani attraverso le loro conoscenze, la loro capacità di conoscere e capire le cose, sono quelli che possono portare al territorio quello che il territorio non vede e quindi ci fertilizzano facendo aumentare la nostra capacità produttiva di comprensione e di realizzazione. E con Glocali cosa avete in mente di fare? Noi abbiamo in mente di riuscire a moltiplicare questa attività di fertilizzazione non solo nell'ambito spaziale ma nell'ambito di tanti settori economici dove i ragazzi andranno nei posti dove nascono le idee, nascono le informazioni e le riporteranno sui territori affinché il territorio le possa utilizzare al meglio. Quindi una sinergia doppia da Collefero a uscire e ad entrare, mi sembra di capire. Certo, certo. Una sinergia che aiuta i ragazzi a crescere perché debbano impegnarsi a cercare, a trovare, a organizzare e a spiegare. E chi riceve queste informazioni a utilizzare queste informazioni per migliorare e poi creare altre opportunità anche per questi ragazzi stessi.